Amici e amiche di Horror Italia 24, ben ritrovati dal vostro Gabriele Orsini, come sono andate le vacanze? Spero bene, insomma, che non ci siano stati problemi di sorta e invece buone vacanze a chi ancora appunto le sta trascorrendo perché ci sono quelle persone che riescono a tenere le ferie solamente a settembre e quindi ne approfittano chiaramente anche durante questo periodo che a volte è addirittura meglio di agosto, poi dipende sempre dalle condizioni meteorologiche. Che cosa trattiamo oggi? Trattiamo in particolar modo di tutti quei film horror e dei generi affini chiaramente che non hanno voluto di un grande successo, che non sono stati magari sufficientemente presi in considerazione quando in realtà avrebbero dovuto esserlo. Io vi darò insomma dei consigli sui film interessanti, quelli più carini da vedere in questo senso cominciando da un titolo molto interessante che è disponibile su Netflix e quindi chi di voi ha l'abbonamento magari può dargli tranquillamente uno sguardo. Parliamo del terrore del silenzio, titolo originale Ash. Allora, questo film è interessante perché affronta un po' quelle meccaniche tipiche del thriller psicologico quindi se noi non prendiamo in considerazione i film horror diciamo che questo può essere un genere a fine molto interessante dove ovviamente spendere qualche oretta per godere di buona suspense. Allora, diciamo che negli ultimi tempi non abbiamo avuto dei thriller psicologici degni di nota eccetto magari l'Arcinoto Disturbia e poi anche il recente Get Out Scappa che si è dimostrato un film molto molto interessante. Per quanto riguarda il terrore del silenzio, per la regia di Mike Flanagan, lo stesso regista che tra l'altro ha diretto il recente è il gioco di Gerald ispirato appunto a un noto romanzo di Stephen King. In questa casistica ovviamente affrontiamo tematiche un po' diverse, vediamo coinvolta Maddie Young, una giovane scrittrice sordo-muta che a caso di una meningite batterica all'età di tre anni praticamente ha perso l'utilizzo di questi due sensi quindi non può parlare né sentire. Ovviamente lei poi come vedrete gode di un grande successo perché è una scrittrice nota negli Stati Uniti che decide poi di confinarsi in una casa in montagna di sua proprietà appunto per stare lontana da tutta e da tutti e in modo che trovi insomma l'ispirazione giusta per poi scrivere un nuovo romanzo. Durante questa villeggiatura verrà perseguitata in modo non molto spiegato nel film da un serial killer che cercherà di ucciderla in tutti i modi. Quello che posso dirvi di negativo è proprio quello che avevo detto poco fa cioè nel senso che non sono chiari i motivi per cui lui vuole uccidere la ragazza. Poi chiaramente quello che può sembrare più naturale da comprendere è il fatto che lui uccide semplicemente per il gusto di farlo. Poi magari ci possono essere delle altre interpretazioni, magari un fan dell'uso dai suoi romanzi o altre cose, insomma altre dinamiche già affrontate in precedenti film. Però perché questo film ve lo consiglio e perché dico che è bello? Perché effettivamente va ad affrontare un po' il discorso suspense in un modo che non era stato mai affrontato quantomeno che trovavamo proprio nei vecchi gialli quelli che effettivamente ci tenevano incollati alla sedia. Il senso di persecuzione, proprio la capacità di questo serial killer di incutere paura e quel senso di non avere via di scampo la stessa protagonista che poi inizia anche durante la pellicola in vari momenti ad assentarsi proprio con la mente e a pensare a tutte quelle che potrebbero essere le sue morti. E effettivamente devo dire che sotto questo aspetto il film funziona benissimo. Quindi ve lo consiglio, il nostro voto, perlomeno quello mio di Gabriele Orsini, è un bel set e mezzo. Se avete Netflix andatevelo a vedere, altrimenti dovrebbe essere reperibile nei vari store digitali e negli store fisici, comunque anche se poi le ordinate sicuramente ve lo procurano. Quindi ecco, dategli un'occhiata, adesso vi allego il trailer e poi ci vediamo direttamente la prossima volta con un nuovo film.